Ringrazio il gruppo di Davide perché mi ha la possibilità di dire, e visto che mi hai detto prima, scelto anche dal pubblico, quali erano i diritti del nostro istituzione, vi tengo opportuno fare questo partaggio. Allora, mi piace la giusta parla a nostre disposizioni di quello che è Roma, dipendendo di dire alcune cose che sono fondamentali a lei. Il piano non è il progetto che nasce con l'amministrazione tattura, ma con l'amministrazione ferrara. Inizio a prendere nel 1984 i milioni di euro, un'unica, un'esercizio burocratica e una serie di danni indietro che abbiamo detto sulla parte che è la dimostrazione del Stato. E' stato il Stato del Stato, anche se non c'è altri quelli che hanno praticamente... Allora, per evitare di dire, 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 uno dei motivi normalmente che hanno accettato, per tutti i consiglieri e i consiglieri esposi d'orzito, hanno distendito in questo momento, sono il mondo in cui questi sogni sono stati aspetti. Se noi perdiamo una rampa della città e perdiamo che i vari interventi, il carna di studio al centro, era un obiettivo di piano, quindi era un'indicazione che non dipendeva dalla propria dedicatoria. di dire, noi abbiamo apprezzato gli interventi, come riuscimamente diceva il consigliere per l'ultimo che rappresenta il intervento di Arpino, perché è il movimento di Arpino, noi siamo due consiglieri che guardano alcuni in autonatica, qualche estima. Ovviamente abbiamo avvenuto un bel calrogramma in questa amministrazione, in base di incontrazione della campagna il programma ci ha dato un programma, che noi abbiamo un progetto individuale, cioè nel senso che abbiamo detto delle nostre aspettative come del cittadino, perché rappresentiamo dei quartieri per me. Quando vanno in me, per mia informazione professionale, non vado mai a prestare, ma che lo vuole essenzialmente gli interessi di chi ci ha sostenuto, diciamo da sordine dei cittadini che noi rappresentiamo, non può dire che non sempre è così. Allora noi che rappresentiamo un quartiere, noi prendiamo le opere di piano di età, nei tre anni il nostro quartiere non abbiamo visto nessun tipo di investimento, questo ci preoccupa, perché? Perché il mondo non è bene che non ci dipende una vita, ci dipende tre più di un'euro, cioè nel senso partecipa questo progetto con tre piccoli di euro, tre piccoli di euro o più dovevano servire della parte iniziale. Dove ne vengono pensi, per esempio? Dove sono, che stessi? Praticamente delle opere che venivano da condotti e opere concessioni, concessioni, in tal senso. Allora, guarda cazzo, dovrebbero essere soldi che dovrebbero essere investiti per formare il cento che c'era, sai, non c'è con più Europa che riguardava il cento, e per inferire che veniva a riservire, potenzialmente, non ha delle opere. Però se noi prendiamo i soldi, i soldi sono attraversi anche le abbiamo delle opere pubblici, le abbiamo disponibili dei jocchi di tutto quello che prendiamomitti con il fatto di miglior, nella migliora di migliori del periferie, allora ti ho bisogno di avere, come le Tianrella fai, va bene? Il fatto è, bene, ma è un'epoca, ma è un'epoca, ma è un'epoca. Buongiorno a tutti. Incominciare a manifestare il nostro dispetto. E' un'altra cosa. 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 Quando noi ci abbiamo trovato, all'interno che noi abbiamo avuto due consiglieri maggiorati, i consiglieri maggiorati, fanno interventi, cercano di spostare quelli che sono praticamente gli orientali. Però, evidentemente, c'era qualche cosa a livello della maggioranza. Perché noi abbiamo manifestato tutto il nostro sistema dalle varie sedi istituzionali. Sperando che qualcuno ha cominciato, perché io ho deciso del piano di andare a vedere le quali sono le ombre e loro vengono realizzate. E' importante. E' importante. Ma io gli ho deciso di fare. Io gli ho detto che vanno a fare. E noi non possiamo controllare le ombre. Noi siamo bene con le ombre. E' solamente che speriamo che ci sia una migliore distribuzione con le ombre. perché siamo tutti figli di questa città. Non solo un piano di serie A e di serie B. Poiché c'è qualcuno che all'interno di questa amministrazione pensa che Cattoria sia determinati punti. Noi vogliamo scordare le tante delle preferite che rappresentiamo e non vogliamo andare contro gli interessi nessuno. Diciamo che la città di Cattoria è una. Se poi vogliamo fare le tante e diverse città diciamo che esiste la trazione a qui, esiste qualche retele. Noi siamo in consiglio a un'ultima città che devono curare i interessi della città non dimenticare nessuno. Perché il sindaco è il sindaco della città di Lagoa. Anche i cittadini di un quartiere fede, un quartiere di Fataotte e degli appi sono abbinati di potenza città. Il sindaco e l'amministrazione non potete dimenticare. Il sindaco e l'amministrazione non potete dimenticare. Il sindaco e l'amministrazione non potete dimenticare.